Un lentinesi alla fine di febbraio scorso, dopo aver partecipato ad una festa di pensionamento a Siconella, avrebbe accusato del malessere per diversi giorni, per cui, quando il malore si è acuito, ha deciso di rivolgersi al medico di base per un controllo. Il medico però, intuendo che non si trattava di un semplice mal di pancia, ha disposto l'attivazione del protocollo, da cui è risultato positivo alle Covid-19. L'uomo adesso si trova ricoverato all'ospedale Umberto I di Siracusa. In concomitanza a questo caso si trova ricoverato all'ospedale di Caltagirone anche il protagonista della festa di pensionamento, un nescemese, che è risultato anche lui positivo alle Covid-19. A questo punto, anche per i partecipanti alla festa, è stato disposto l'attivazione del protocollo per riaccertare meglio le loro condizioni di salute. Sempre nella nostra provincia, e precisamente a noto, sono due invece i casi accertati. I risultati del tampone sul collega del dirigente di un ufficio pubblico è risultato positivo. Entrambi i contagiati sono ricoverati all'ospedale Umberto I di Siracusa. Respirano autonomamente e oltre a qualche linea di febbre non presenterebbero altre sintomatologie. Le famiglie di entrambi i pazienti sono in quarantena e monitorate dai medici di famiglia.